recording ok quindi nella prossima oretta e mezza andiamo a parlare di di appunto eventi vediamo come vengono gestiti perché sono appunto la peculiarità del browser e quello che ci consente di scrivere l'applicazione quindi abbiamo detto prima possiamo riprendere abbiamo detto prima che nel browser l'ambiente di esecuzione è in grado di aggiungere delle callback che possono essere eseguite al verificarsi di determinati eventi e adesso parliamo in maniera più specifica di questo aspetto gli eventi sono fondamentalmente in buona parte quello che fa l'utente interagendo con la nostra pagina del browser cioè con la nostra applicazione e poi ci sono tutta un'altra serie di eventi input out, caricamento della rete eccetera sempre asincroni che possono essere che sono gestiti nella stessa maniera quindi javascript usa un modello di programmazione event driven e questo l'abbiamo già visto l'abbiamo già visto anche in node quindi tutto quanto parte da quando si verifica un evento la callback, il codice corrispondente viene messo in coda nella message queue l'event loop a un certo punto lo tira fuori e comincia a eseguirlo gli eventi sono determinati dal elemento che genera l'evento quindi l'elemento html che genera l'evento parlando del browser ecco che viene chiamato purtroppo con la terminologia event target e non event source cioè è la sorgente che ha generato l'evento ma la chiamano target per motivi diciamo storici quindi quando troverete nel codice punto target è quello che ha generato l'evento non tanto il, cioè non è ciò che succede eccetera lo chiameranno target forse perché è quello su cui che era il target dell'utente quando ha fatto un'azione però è sostanzialmente quello che a livello del codice genera l'evento e poi il tipo di evento generato perché lo stesso elemento può generare tipi diversi di eventi per esempio click, doppio click click col tasto destro sempre col mouse, sempre un click ma sono tre tipi di click diversi giusto per fare un esempio javascript supporta tre modi per definire degli event handlers quelli in line, un po' come il tag style cioè ci sono degli attributi scusa ho detto tag, era l'attributo style c'è l'attributo on click, on load, on e che non guardiamo perché è veramente una maniera grezza e vecchia di definire questi handlers era poi molto poco flessibile perché abbiamo poco spazio non per scrivere il codice quindi quando si usava fondamentalmente si chiamava una funzione e basta poi c'è la possibilità di definire gli eventi sul DOM ma diciamo che la modalità più moderna è quella di usare quel metodo che abbiamo già nominato prima che è add event listener e noi vedremo solo questo quello del DOM è diciamo abbiamo una proprietà sui vari elementi anzi tante proprietà che corrispondono ognuno a ogni evento però facendo così possiamo assegnare un'unica callback ad ogni evento e quindi è compito nostro se ne vogliamo assegnare due riscrivere tutto il codice eccetera con add event listener possiamo assegnare anche più di una callback allo stesso evento e verranno eseguite in sequenza ok quindi vediamo l'add event listener possiamo aggiungere tanti event listener quanti vogliamo anche allo stesso nodo anche per lo stesso evento e quindi è il motivo per cui vediamo questo metodo perché è il più flessibile di tutto e anche appunto il più moderno la callback che passiamo riceve come primo parametro un oggetto di tipo evento nel quale potremmo poi andare a prendere delle informazioni se necessarie quindi chiariamo per esempio come si può fare con un piccolo esempio window add event listener load cioè nel momento in cui si è caricato tutto esegue questa callback e questa callback è il secondo parametro che passiamo oramai siamo abituati alla sintesi javascript questa è una funzione scritta sotto forma di arrow function un unico parametro event che questo oggetto è event object in cui eventualmente possiamo fare quello che vogliamo ovviamente quello che facciamo dipenderà dal tipo di evento lo add probabilmente dall'evento non abbiamo bisogno di prendere niente ma se noi avessimo che so un click che agganciamo ad un nodo che abbiamo identificato tramite un id my link per comodità per non dovercelo andare a prendere usando l'albero del DOM link.add event listener nel momento in cui mouse down quindi qualcuno ha premuto qualcosa sul mouse l'utente ha premuto qualcosa event freccia e beh qui facciamo una cosa molto semplice console.log event button a seconda del tipo di evento questo oggetto event conterrà proprietà differenti avrà valorizzato proprietà differenti per esempio c'è la proprietà button nel momento in cui questo evento è relativo alla pressione di un bottone sul mouse proprio piccolo esempio giusto per farvi capire add event listener prende una stringa che è il nome dell'evento e una callback da chiamare che userà l'evento quindi event object proprietà principali che hanno tutti gli event object target che sarebbe la sorgente che ha generato l'evento ma come abbiamo detto prima si chiama target e il tipo tipo di evento e poi c'è un metodo particolare che è interessante poi ci servirà anzi ce n'è poi più di uno però diciamo questo è uno di quelle che ci serve di più che si chiama stop propagation per evitare di propagare l'evento all'interno dell'albero del DOM perché questo evento naviga diciamo così all'interno dell'albero del DOM e vedremo poi tra un istante come e dobbiamo saperlo perché appunto se usiamo più event listener che agganciano lo stesso evento su nodi diversi poi dobbiamo capire come questi vengono richiamati le categorie di eventi che si possono verificare sono tantissime se andate a vedere questa banalmente Wikipedia ma anche solo questo vi dà l'idea di che cosa può capitare diciamo le categorie principali sono eventi dell'interfaccia utente carico ridimensiona la finestra un evento faccio lo scroll è un evento questo vi spiega come mai col javascript riuscite a cambiare l'aspetto della pagina mentre l'utente la muove perché ci sono degli eventi che si possono agganciare e lavorare focus blur quindi ho cliccato su una cosa quindi ho messo il focus ho messo il mouse su un oggetto piuttosto che un altro e così via eventi del mouse click doppio click anche semplicemente lo spostamento il drag il trascinamento e così via tastiera, premo dei tasti eccetera eventi dei form che vedremo un po' più nel dettaglio eventi di cambiamento come ho caricato il contenuto del DOM eccetera eccetera eventi HTML 5 relativi ai form principalmente eventi del CSS principalmente relativi alle animazioni quindi l'animazione iniziata, l'animazione finita eccetera e quindi posso agganciarmi al verificarsi di questi eventi cioè voglio far vedere una cosa solo quando l'animazione del CSS è finita devo usare un evento del CSS e che troverete da qualche parte nelle varie liste adesso qui è Wikipedia ma potete andare su Mozilla al developer network eccetera e c'è la lista di tutto quello che è più o meno implementato nei vari browser dico più o meno implementato perché come sapete non potete mai avere la certezza che ci sia tutto dappertutto diciamo che gli eventi fondamentali sono chiaramente a disposizione di tutti i browser e il resto bisogna sempre un po' verificare e provare se usiamo delle librerie usiamo delle cose già fatte ovviamente qualcuno l'ha già fatto per noi come funziona la gestione degli eventi sull'albero del DOM l'albero è fatto in questa maniera c'è l'oggetto window che poi ha l'oggetto document è quello che abbiamo visto stamattina e poi sotto l'oggetto document dipende dal contenuto del documento il contenuto del documento ovviamente avrà un HTML e un body come minimo e poi il suo specifico contenuto diciamo che c'è una tabella ci sarà una tabella un body di una tabella varie righe io ho cliccato su un elemento di una riga di una tabella bene quindi supponiamo che l'utente abbia cliccato come funziona la gestione dell'evento bene si parte sempre dal window quindi dall'elemento radice e questo evento scorre tutti gli elementi fino ad arrivare all'elemento target cioè quello su cui ho fatto ho scatenato l'evento io come utente o che ha scatenato l'evento negli altri casi in generale in questa fase che si chiama fase di cattura non succede nulla a meno che io non abbia aggiunto degli event handler usando un parametro specifico però questa cosa è abbastanza rara a livello di codice utente perché magari la fa qualche libreria qualche cosa per riuscire ad intercettare gli eventi prima che lo faccia l'utente per fare qualche cosa però tendenzialmente in questa fase di cattura non succede nulla se io non ho detto sono aggiunto un handler con questa particolare opzione l'evento raggiunge il target gli event handler associati al target sono eseguiti quindi in realtà sono messi nella message queue da cui l'event loop tira fuori quando può comunque diciamo che se l'interprete javascript non sta facendo niente vengono immediatamente eseguiti e poi c'è la fase cosiddetta di bubbling in cui si ritorna su come se fosse una bolla che va in superficie e quindi si torna indietro su tutti gli elementi fino a tornare al window gli event handler sono lanciati su ognuno dei nodi incontrati ovviamente se sono stati registrati se ne ho registrato uno solo sul td vabbè in questa fase di bubbling non fa nulla se io però non avessi registrato l'event handler sul td ma l'avessi registrato per esempio sul tbadi o sulla tabella ecco mi verrebbe scatenato l'event handler anche se io clicco sul td e questo mi consente per esempio di evitare di scrivere n volte tante volte un event handler che gestisce il clic su una casella di una tabella anziché scriverlo uno per ogni casella della tabella posso scriverlo sulla table o sul tbadi non lo so dove mi viene più comodo e nonostante io abbia cliccato sul nodo figlio quindi sul casella della tabella l'event handler agganciato alla tabella stessa intercetta questo evento sempre che la fase di bubbling non sia fermata prima perché c'è un metodo apposta sull'evento per fermare la fase di bubbling per dire qualcuno l'ha già processato altrimenti se io avessi agganciato un event handler su td su tr sul table tutti e tre gli event handler mi verrebbero eseguiti e magari non è il comportamento che voglio dipende da come ho organizzato il codice io dico stop propagation vuol dire l'evento l'ho gestito non c'è più bisogno che nessun altro event handler lo gestisca questo è tutto il codice che scrivo io quindi sono io programmatore che decido come deve comportarsi ok quindi siamo in grado di gestire gli eventi su qualsiasi elemento tramite i suoi elementi padre e questo può venire comodo in molte situazioni tra l'altro ecco c'è anche un comportamento di default associato agli eventi all'interno del browser in particolare i due comportamenti più visibili sono quelli il clic sul link e il clic su un bottone tipo submit di un form perché il clic su un link di default fa sì che venga caricato un nuovo URL questo è il comportamento di default nel browser altre cose per il link non penso ce ne siano di default quindi che so passo sopra col mouse non c'è un comportamento di default premo un bottone sulla tastiera non c'è un comportamento di default però sul clic sul link c'è il comportamento di default carico la nuova pagina sul clic del bottone submit di un form c'è il comportamento di default prendo il form lo metto insieme tutti i suoi dati lo spedisco al server e carico una nuova pagina è possibile evitare che questi comportamenti di default si verifichino con un altro ulteriore metodo che si chiama prevent default domanda quindi nella bubbling phase se non blocchiamo la propagazione potenzialmente potrebbero attivarsi tutti diventando il parent dei nodi parent sì esatto sempre che li abbia messi perché di default non c'è quasi nulla appunto ci sono i comportamenti di default e basta se carico qualche libreria magari ha un suo ha dei suoi event under di default che vengono quindi aggiunti con l'add event listener però se ho caricato quella libreria magari voglio che si verifichino e poi il resto è tutto gestione mia di solito quando ho processato l'evento faccio faccio appunto il come si chiama questo stop propagation perché perché l'ho gestito e quindi dovevo fare una cosa a fronte di un click l'ho fatta in un posto l'ho fatta nell'altro però di solito voglio fare una sola quindi di event handler vengono eseguiti nell'ordine della bubbling phase sì però diciamo che se mi avvalgo della bubbling phase tipicamente è perché ho messo l'endler su un elemento padre e non sull'elemento target quindi è vero che potrei averne diversi che fanno cose diverse però diciamo stiamo complicando qualcosa che di per sé è fatto così per poter essere gestito in maniera semplice cioè mettere sul padre l'event handler e essere in grado di gestire quello che succede su tutti gli elementi figli con un unico pezzetto di codice ok quindi stop propagation basta scriverlo sull'evento che appunto è quello che viene passato alla callback ed è anche un motivo per cui ci viene passato l'evento oltre al fatto di metterci a disposizione delle informazioni e questo è ferma la bubbling phase ci sono degli eventi particolari che è bene conoscere per esempio DOM content loaded che viene lanciato nel momento in cui il browser ha finito di caricare tutto l'html e l'albero del DOM è pronto ma le risorse esterne non sono ancora state caricate quindi di solito molti di questi eventi sono a disposizione più che altro per delle librerie che noi carichiamo o diciamo vogliamo fare qualcosa prima del caricamento di risorse esterne eccetera abbiamo la possibilità di intercettare questi eventi quindi scrivere delle callback che reagiscono a questi eventi per darci la possibilità di cambiare dei comportamenti di default load before unload unload eccetera eccetera ecco ecco questo è un po' particolare perché unload vuol dire che la pagina sta andando via quindi anche il mio codice sta andando via diciamo che è quello che tendenzialmente cerca di farvi comparire la finestrella che vi dice sei proprio sicuro di voler lasciare il sito però non è così standardizzato i browser non tutti i browser lo implementano nella stessa maniera perché vi blocca un comportamento che magari voi come utenti vorreste che fosse diverso quindi andare via dal sito però se ho comunque bisogno di intercettare un evento su uno specifico figlio non posso richiamarlo sul padre dunque ho comunque bisogno di intercettare un evento su uno specifico figlio non posso richiamarlo sul padre e no nel senso che cioè l'evento l'evento mi porta la proprietà target che mi dice qual è l'elemento del DOM sul quale è stato scatenato però poi diventa macchinoso andare a capire qual era per esempio nel caso della tabella abbiamo tutti i td io sul table ok aggancio l'evento del click in event target c'è l'oggetto ma tutti gli oggetti si chiamano td quindi se io voglio sapere quale td è stato premuto vuol dire che per esempio dovrei mettere su ogni td un attributo id uguale a qualcosa allora su event target id mi ritrovo l'id che ho messo e se li ho messi per bene che so con l'indice di riga di colonna so qual è la casella della tabella che è stata sulla quale è stato fatto il click però devo riorganizzarmi per riuscire a gestire la cosa in questa maniera quindi devo fare attenzione io che poi mi arriva un riferimento ad un oggetto e da quell'oggetto in qualche maniera se ho bisogno di sapere qual era devo riuscire a determinarlo è un modo più semplice quello di avere l'attributo id altrimenti è un riferimento ad un oggetto td che potrebbe essere come quello di un altro non so vado a vedere cosa c'era in inner text se so cosa c'era scritto nella tabella può bastare quello però insomma devo un po' cercare di organizzarmi però è giusta osservazione chiaramente nel momento in cui aggancio più in su nell'albero e devo capire cosa è stato premuto devo organizzarmi di conseguenza ok ecco prima di andare in form farei un altro po' di pratica e quindi sempre sull'esempio che avevamo prima abbiamo my exam quindi una tabellina la solita tabellina che abbiamo visto prima proviamo ad aggiungere un event listener una cosa molto semplice niente di particolare prendiamo il visual studio code io direi che a questo punto vabbè diciamo così lo commentiamo giusto perché così lo lascio lì però se uno vuole poi provarlo dopo diciamo che vogliamo prendere fare in modo che clicchiamo sulla tabella e qualcosa mi venga scritto qui sulla destra che so clicco e mi viene scritto il voto un normale click in un posto e succede qualcosa da un'altra parte prima di andare avanti leggo però la domanda perché ad esempio in un form vorrei abilitare il click su un bottone e non sulle altre parti del form sì dopo parliamo di form però diciamo che il form è una cosa un po' particolare nel momento in cui ha cioè se ha un bottone viene abbastanza naturale associare un event handler al bottone se avesse un array di bottoni beh allora sì in quel caso lì può aver senso ragionare su un componente a livello superiore e capire quale bottone è stato premuto se le altre parti del form sono sono di altro tipo bisogna un po' vedere cosa deve fare nel senso che se è un casello di testo cioè se io faccio un click su un bottone di solito voglio che venga un'azione un'azione relativa a quel bottone quindi avrò scritto del codice mi conviene scriverlo sull'endere del bottone cioè andare a metterlo sul form rimane un po' non so un po' strano credo bisognerebbe capire bene cosa vuol fare però tipo se se appunto facciamo come vogliamo fare adesso ho una tabella quindi ci sono tanti posti tanti questi sono i td le caselle della tabella su cui posso voler cliccare mettiamo che voglio cliccare e tirar fuori la il valore del del voto nella stessa tabella voglio che l'utente ad esempio clicchi sull'elemento più a destra non su tutti gli altri e sì e quindi devo devo ma io ricevo l'event handler e quindi metto l'event handler su tutto e poi devo solo verificare che sia stato cliccato l'elemento più a destra e quindi quindi di nuovo siamo nel caso di prima devo credo taggare la cosa più semplice taggare gli elementi più a destra con un id specifico vado a vedere se c'è quelli di o una classe in questo caso se sono tutti e sono equivalenti magari una classe non un id ok sì quindi proviamo e diciamo che allora io vado a prendermi le righe della della mia tabella rows come faccio document adesso non mi ricordo più se c'era un id vado a vedere table class table no non c'era non c'era vabbè cambiamo proviamo a fare con il css quindi non get ma query selector beh in realtà query selector roll se voglio tutte le righe diciamo che metto tr questo è il selettore css quindi niente di particolare tr ok ok e poi e poi e poi aggiungo l'event handler consentitemi di fare di aggiungerne più di uno poi se volete più avanti proviamo a farne uno solo però diventa un po' macchinoso perché dobbiamo andare a modificare il codice html come dicevamo prima o forse no insomma bisogna un attimo pensare diciamo let row of rows mi scorro le righe no aperta graffa e quindi row add event listener no evento click quindi devo sapere come si chiama l'evento però purtroppo come in tutte le cose no se non lo so vado a cercare su internet pagina di manuale eccetera noi diamo delle indicazioni a cui partire no event freccia eh aperta graffa quindi callback da chiamare nel momento in cui si verifica il click cominciamo con una cosa semplice facciamo il codice in maniera incrementale no perché eh non è che si può cioè potremmo anche copiarlo e scriverlo tutto però cerchiamo di di vedere come potremmo fare console log quindi quando non sappiamo cosa fare facciamo un console log e stampiamo ehm che cosa avviene eh event o event target eh ok eh e vediamo che cosa succede quindi abbiamo scritto proprio poche righe preso tutte le righe su ogni riga abbiamo messo un event handler eh ad click che esegue console log di event target vediamo sul browser cosa succede quindi ricarico eh apro la console se no c'è poco da vedere quindi console click 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 se vedete vabbè qui text count 29 è l'ultimo sul quale avevo cliccato quindi sta funzionando giusto eh mi viene stampato in questa maniera perché appunto la console del browser è così cortese che quando mi stampa un nodo me lo fa anche aprire navigare eccetera eccetera bene allora primo passo sta funzionando a questo punto diciamo vabbè voglio prendermi il voto quindi proviamo a prendere il voto dunque la row diciamo che andiamo a prendere i figli children come abbiamo visto prima non i child notes perché ci sono anche le parti di testo vuote children era il primo il secondo 0 dunque 0 1 2 no come dice 1 il voto è posizione 1 punto inner text inner non voglio html ma voglio text perché non me lo da dovrebbe andare vabbè comunque diciamo let score uguale ok e poi console niente di particolare proviamo di nuovo quindi ricarico faccio sempre shift reload perché così ricarica tutte le risorse incluso il mio codice javascript è la cosa migliore da fare diciamo che clicco qui computer architecture td 29 clicco qui sulla data 27 va bene clicco sulla riga di header score ecco score non è che mi piace tanto quindi va bene sì ho preso diciamo il secondo elemento sulla riga e quindi sulla riga di header vabbè c'è quello ok cerchiamo di aggiustare questa piccola cosa dunque io qui ho selezionato tutti i tr che sono poi tutti quelli che hanno il codice html diciamo che non voglio il primo tr come posso fare allora un'idea potrebbe essere di dire quella di prendere solo i tr che stanno sotto tbody e se io ho separato headbody tr che stanno figli di tbody vanno bene se no no quindi modifichiamo modifichiamo il selettore css tbody tr spazio vi ricordate il selettore css come funziona se metto spazio il tr è immediato figlio di tbody ok figlio di tbody allora vediamo se funziona riproviamo di nuovo ogni volta c'è da riprovare quindi click qui qui e poi su ladder ok non c'è più l'eventander collegato quindi non succede niente di default non succede niente benissimo ok facciamo ancora un piccolo sforzo mettiamo insieme quello che abbiamo visto nell'ora precedente scriviamo i voti qui sotto quindi avevamo provato ad appiccicare con il paragraph qualcosa qui sotto proviamo quindi va bene il console log va bene event target possiamo buttarcelo via il console log questo lo possiamo lasciare andiamo a recuperare quello che l'elemento sul quale vogliamo andare a scrivere e poi ci scriviamo quindi diciamo che facciamo document get element element by d per fortuna avevo messo come prima un id comments quindi comments e questo è l'elemento assegniamolo a una variabile ma facciamo let comments forse si poteva fare anche const comments in cosa facciamo appenchild potremmo fare potremmo fare mettere direttamente dell'html mettiamo dell'html così mi avanzo di creare l'elemento p per fare il paragraph così li faccio uno sopra l'altro perché il p è un block quindi finisce uno sopra l'altro e scrivo un po' di codice html così vediamo una cosa un po' diversa quindi devo prendere uno di quei metodi che abbiamo visto sulle slide consentitemi di non andare di nuovo sulle slide se no finiamo più c'è per esempio insert adi html che lo faceva subito dopo anzi in realtà lo faceva dove glielo dicevo quindi c'è un parametro apposto che è before end vabbè prendiamolo dalle slide ma che se no si capisce poi più niente quindi bisogna solo avere un po' di pratica poi tanto lo facciamo più che altro per esercizio dove era guardato diciamo è uno di questi metodi in realtà ecco non era sulle slide no eccolo qua ecco adi 100 html before end quindi io ho l'elemento superiore no il div avevo i miei paragraf il before end me lo mette alla fine ok bisogna solo prendere un po' di pratica niente di particolare poi tanto finisce che nel momento in cui usiamo il framework queste cose si anche modificano un po' per cui mi adatterò di nuovo questo è appunto proprio per fare un po' di pratica diciamo che nel momento scrivo html scrivo il mio html quindi inserisco il mio paragraph e scrivo the score is e poi o faccio col più ma non è che sia una sintassi che mi piace tanto allora provo a fare usare la sintassi diciamo un po' più moderna dove è andato a finire eccolo qui il backtick quindi usare il template literal e qui ci scrivo lo score che avevo recuperato prima score ok quindi vediamo cosa succede adesso salvo ricarico quindi clicco ho 29 clicco 28 riclicco un altro 28 e intanto vabbè avevo lasciato il console log quindi clicco e così via scusi non ho ben capito come abbia escluso l'header della tabella dai click è il selettore del css io scrivendo questo selettore tbody tr sto chiedendo tutti i tr tutti perché è l'all quindi non solo il primo tutti i tr che stanno sotto tbody e nella struttura html i tr che stanno sotto i tbody non includono quelle che stanno sotto l'header tutto qui ok se no avrei potuto prendere table prendere tutti i tr che stavano sotto escludere il primo quindi fare un for che iniziava non dal primo saltava il primo e andava avanti dal secondo in poi molto più macchinoso se conosco un po' di sintassi css e riesco a gestirmela con un selettore css no aveva letto thead ok no tbody se riesco a gestirmela col selettore css faccio molto prima posso anche usare la sintassi punto classe punto qualcosa quindi potevano avere una formatazione diversa bastava un punto class con la classe che avevo scritto e così via quindi tutte le regole css che abbiamo imparato si possono riciclare qui dentro ok quindi abbiamo fondamentalmente fatto una prova in cui abbiamo agganciato degli event handler tra l'altro li abbiamo agganciati non sul singolo td perché io posso cliccare su uno o qualsiasi dei td quindi uno o qualsiasi degli elementi sul padre quindi l'evento fa il bubbling va sul padre noi lo agganciamo sul padre poi facciamo quello che vogliamo per esempio questa operazione di aggiungere qui a destra ovviamente se richiamo la pagina va tutto perso perché la pagina viene ricaricata come scritta sul file però mano a mano il javascript ce la può modificare quindi clicco e così via ok vi faccio notare un qualcosa sì un qualcosa di particolare nel senso che occhio questo questo row no questo row è dentro una callback che è quello che è visibile nel momento in cui registriamo la callback no poi la callback verrà eseguita successivamente quando faccio il click viene messa nella message queue che poi viene presa dall'event loop come fa la callback avere a disposizione il valore di row giusto cioè è la prima la seconda la terza eccetera questo qui è proprio il classico caso della closure io ho definito una funzione la funzione è stata agganciata come callback dentro il browser all'evento la funzione si ricorda su quale row a quale row cioè qual era il valore di row quando la funzione è stata definita cioè la closure di cui abbiamo parlato javascript è pieno di queste cose cioè la funzione è la stessa vedete che stesso codice però ad ogni giro row ha un valore diverso e quindi la callback viene attaccata a una closure diversa sulla riga corretta quindi dobbiamo entrare nell'ottica di javascript e riuscire a capire tutte queste cose perché sono poi il modo in cui funziona adesso qui magari non ci avevate neanche pensato vi sembra intuitivo però pensate al fatto che ogni volta la row è differente e la callback e quindi il codice è lo stesso ma la closure è differente quindi va a riferire la row corretta avrei anche potuto provare ad andare a recuperarmi il il come si dice l'oggetto anzi il nodo dall'event target target e poi andare a fare parent node e poi andarmi a cercare il children eccetera però diciamo nel momento in cui ce l'ho tanto vale che lo uso ok e c'è questo meccanismo della closure che funziona benissimo e lo uso ok va bene direi che qui abbiamo visto abbastanza ecco vi faccio notare solo che tutto questo codice potrebbe essere tranquillamente incapsulato in un altro event handler per esempio se io voglio essere sicuro che questo codice venga eseguito solamente nel momento in cui la pagina è stata caricata e quindi esistono tutte le righe potrei metterlo in un altro event handler l'handler che gestisce l'evento load adesso io per come l'ho scritto sono sicuro perché ho caricato lo script col defer quindi sono sicuro che viene eseguito al termine ma se io non l'avessi fatto l'avessi messo lo script prima da qualche altra parte avrei avuto il problema che magari non c'era tutta la tabella quindi mi metteva diventando solo sul pezzo di tabella che va processato fino a quel momento proviamo giusto per far vedere come la sintassi può diventare anche un po' complicata ma solo a livello di annidamento e niente di particolare load allora la parentesi tonda va a finire sotto e qui ci mettiamo event aperta graph la chiusa graph la mettiamo sotto vediamo di fare un po' di pulizia del codice quindi dove era format quindi tutto questo viene eseguito solamente nel momento in cui si scatena l'evento load sulla pagina andiamo a provare a vedere che non abbia combinato pasticci quindi riprovo perché c'era il break point ah perché ho lasciato questo break point niente ok se l'era ricordato da prima bene funziona come prima ok quindi solo per far vedere che il codice può anche essere più complicato sempre tipicamente voglio che sia stato caricato tutto la struttura html quindi tutto il DOM prima di iniziare a mettere cose fare cose però si può fare in maniera abbastanza tranquilla ancora una cosa vorrei fare poi andiamo avanti sulle slide diciamo che perché poi vi serve nel laboratorio quindi ci tengo a farvela vedere prima di finire nel momento in cui devo caricare una libreria esterna nel laboratorio ci sarà da lavorare con dayjs come faccio bene allora diciamo che voglio usare la mia libreria esterna dayjs per scrivere l'ora corrente da qualche parte quindi avrò bisogno del mio dayjs ok come faccio a caricare una libreria esterna bene al momento non abbiamo alternative che fare in questa maniera script farò sempre un defer perché voglio caricarla alla fine come tutto il resto del codice source uguale bene devo trovare qualcuno che mi dia la possibilità di scaricare la libreria oppure me la scarico e lo carico da file locale ho cercato ho cercato in rete per esempio potete andare a scaricare da un package ci sono tanti tante cdn cioè di questi servizi che vi mettono a disposizione la vostra libreria come il bootstrap bootstrap c'è già il template se cercate un po' in rete trovate anche diciamo gneurl per tutte queste librerie di uso così comune a me non piace mai lasciare la libreria lì così com'è senza mettere attributo di integrity perché? perché chiunque nel momento in cui vi sostituisco in questa libreria è codice javascript caricato nella vostra applicazione che viene eseguito su browser dell'utente quindi qualcuno ha sostituito qualcosa da un'altra parte in rete e la figura ce la fate voi perché siete voi che avete caricato quella libreria importata nella vostra applicazione per cui potete cercare in rete come si fa potete calcolarvi la hash e tutto quanto mettiamo come si fa per bootstrap ciò che è necessario fare però diciamo giusto per non dare abitudini che non mi piacciono tanto però di per sé se chiudevamo qui funzionava già quindi non c'era problema per sperimentare va bene qualsiasi cosa va bene adesso ho caricato il dayjs in questo momento che cosa fa il dayjs il dayjs usa lo scopo globale quindi lo scopo globale del browser e quindi come questo che lavora con lo scopo globale quindi con l'oggetto win il dayjs avrà messo nello scopo globale un oggetto un oggetto che è il dayjs dayjs che possiamo chiamare in questa maniera prendiamo l'ora corrente diciamo format vabbè non mettiamo niente poi metteremo un format let d non lo so qualcosa così diciamo che faccio un copio in colla se no non finiamo più o mi faccio il p anzi facciamo così facciamo il p così facciamo questa pratica diciamo che ok quindi prima di list exams vado nel code visual studio code html mi piace ok mettiamo a capo il p p current time ok io direi p id anzi no facciamo così span così vediamo anche un po' di cose id uguale ora chiuso span non c'è scritto niente all'inizio ora quindi ora quindi diciamo che facciamo let l uguale document get element by id ora ok e poi facciamo l inner text uguale d ok niente di particolare abbiamo preso l'oggetto tramite l'id e ci scriviamo dentro del testo vediamo se funziona non funziona cosa c'è che non va l letteralmente vai di ora perché r is null ho messo id sbagliato se bello della diretta ora no perché non va non è salvato grazie bravissimo grazie mille ok ecco che c'è comparsa l'ora benissimo vedete che ogni tanto non è questione di java scritte questione di cose molto più base che capitano a tutti ok va bene abbiamo messo l'ora e quindi siamo riusciti a usare una libreria esterna vi dico di nuovo in maniera molto grezza lo faremo poi un po' meglio con i moduli per isolare bene i codici eccetera però in questo momento non abbiamo è sconsigliato per qualche motivo usare l'autosave no no può usare quello che vuole non c'è problema può anche usare come dire il web server interno eccetera poi però quando andiamo su react che saranno poi appunto iniziamo poi credo la prossima settimana ci sarà poi il suo server web eccetera per cui non c'è nessun problema anzi poi ha anche lui un meccanismo che capisce quando serviamo si ricarica server web può usarlo non c'è problema la cosa che volevo farvi vedere era per esempio usare un set set interval quindi questa quest'ora sta ferma no? non è che sia tanto bella cioè vabbè ricarico la pagina si aggiorna tra l'altro questa è l'ora che vede il browser al suo interno quindi accessibile dal codice javascript non è che sia collegato con chissà chi semplicemente l'ora interna vista dal browser quindi se avete l'ora sbagliato sul computer è sbagliata come quella del computer però volevo farvi vedere come ok abbiamo gli eventi ma c'è tutto il resto di cui abbiamo parlato stamattina a disposizione quindi se andiamo a prendere ecco inviso studio code se noi andiamo a che so fare un set interval che non è un set timeout perché è periodico io set interval gli passo una callback che mi fa prendiamo le graffe e facciamo l inner text uguale day js format e lo faccio ogni secondo quindi ho postato un interval ogni secondo viene eseguito questa callback ovviamente è breve tutto quello che facciamo che viene messo nella coda nel message queue preso dall'event loop deve possibilmente essere breve perché se no blocchiamo tutto il resto degli eventi andiamo a vedere cosa succede ok notate che va avanti da solo ma cos'è che va avanti da solo in realtà ogni secondo viene presa questa callback messa nella coda l'event loop non ha niente da fare la prende la esegue va nel day js prende l'ora la imposta nell'html e viene aggiornato e poi se vi piace di più cambiate il formato fate tutto quello che volete però questo è un dettaglio no giusto per per finire no ok ho solo cambiato il formato quel formato lì è un po' orribile ok va bene quindi domande non sembra bene allora quindi abbiamo giocato un po' con il javascript dentro il browser abbiamo agganciato degli event handler abbiamo scritto una callback che viene periodicamente eseguita per esempio visualizzando l'ora niente di speciale ok andiamo quindi avanti quindi eravamo su eravamo in form ok due parole sui form perché i form sono ciò che ci consente di rendere l'applicazione interattiva nel senso che vabbè ok i click però se l'utente deve scrivere qualcosa deve inviare dei dati del server cedeva interagire come ha detto prima il vostro collega dei bottoni di solito premiamo dei bottoni nelle applicazioni oppure deve poter scrivere inserire dell'input quindi il form si ottiene col tag form molto banalmente ha due attributi molto importanti che sono uno l'action l'url da caricare nel momento in cui premiamo il bottone i submit quindi facciamo il submit del form che però noi non useremo che noi facciamo le single page application siamo noi da codice javascript e decidiamo quando parlare col server non l'utente e non il comportamento di default del browser che quando preme il submit del form va a caricare una nuova pagina e poi il metodo col quale va a caricare l'informazione al server che può essere oggetto post vabbè id quello che volete niente di particolare qui dentro c'è del contenuto normale html quindi possiamo scrivere del testo paragrafi cose che ci interessa scrivere tabella quello che volete i controlli del form che sono gli elementi dinamici del form sono un insieme di elementi html che consentono interazione da parte dell'utente ogni elemento deve essere identificato da un valore dell'attributo name ecco notate questo è un po' particolare non è id name per i form perché poi nell'html diciamo così vecchio prima prima dell'approccio single page application tutto il contenuto del form viene inviato al server e il browser va a identificare i valori che abbiamo messo nei controlli del form ognuno usando come chiave il valore che mettiamo come valore come valore dell'attributo name cioè name nome name cognome name indirizzo eccetera e il browser ci scriverà nome Enrico cognome Maser eccetera ci crea una stringa fondamentalmente del testo che rappresenta il valore che abbiamo nei controlli del form e lo invia al server questo è il comportamento di default noi però li andremo ad agganciare da javascript e a lavorare da javascript come vediamo tra poco ci sono diverse categorie di controlli quindi i controlli tipo input li abbiamo già intravisti le caselle di testo ma abbiamo anche l'input button poi ci sono i bottoni specificatamente vedremo qual è la differenza e poi le varie selezioni checkbox radio button list eccetera eccetera e poi elementi di supporto che ci possono aiutare a creare dei form un po' migliori il primo tag è l'input che è anche diciamo il più usato perché appunto contiene controlli di tipo molto diverso quindi c'è type text type password e così via dobbiamo sempre dargli un nome univoco all'interno del form e poi ci sono tutta una serie di altri attributi che vi guardate poi con calma ma non sono niente di speciale per esempio volete far comparire qualcosa prima che l'utente scriva per suggerirgli cosa deve scrivere ma beh questo qui non coincide però dovrebbe essere first name questo è ciò che compare in grigetto prima di prima che l'utente scriva qualcosa quindi un placeholder appunto e così via quindi casella di testo come facciamo ad andare a recuperare in javascript bene possiamo andare a recuperare con diverse sintassi abbiamo la possibilità di andare a prendere la proprietà form di document che contiene tutti i form poi se abbiamo dato un ideal form possiamo specificare l'id in questa forma con le parentesi quadre se no sarà una lista 0 1 2 eccetera e poi ogni forma contiene tutti i controlli come proprietà quindi possiamo fare in questa maniera oppure se ne abbiamo bisogno come sempre mettiamo un id uguale a qualcosa e getelementbyid ci dà accesso direttamente all'elemento che ci interessa ecco controlli tipo input giusto per farvi vedere cosa c'è c'è di tutto e quindi dal più base quello che abbiamo detto text ma password number se volete un numero solo fino a controlli più sofisticati che so color giusto per darvi un'idea vi viene fuori il color pick nel senso cliccate selezionate un colore visivamente certi sono stati introdotti solo nell'ultima versione html nell'html5 oramai sono supportati da quasi tutti i browser è buona norma fare un uso massivo del gd in un codice html ma diciamo bisogna bisogna vedere un po' qual è lo scopo nel senso che cioè metterli solo perché li devo mettere non mi sembra il caso cioè perché ritengo che un giorno mi saranno utili sì il getelementbyid se scriviamo codice javascript puro è la cosa più semplice sì questo è vero però nel momento in cui useremo il form quindi quando vediamo poi react questi elementi diventano dei componenti e quindi ho già la possibilità di agganciare un comportamento a quel componente quindi automaticamente react che me lo me lo identifica nell'html e mi fa scrivere del codice che si collega a quell'elemento per cui diciamo javascript puro sicuro che l'id è la cosa più immediata scrivo getelementbyid se è uno solo soprattutto se è una lista è già più complicata nel momento in cui google framework ogni framework ha cercato di gestire questa situazione a modo suo in una maniera che riteneva semplice ovviamente ok quindi ci sono diversi controlli alcuni sull'html5 per esempio la data pensate quanto è complicato selezionare una data corretta ovviamente potete scrivere quello che volete ma mettete il 31 febbraio ovviamente poi diventa un problema se voi mettete questo controllo cliccate sopra vi esce fuori il calendarietto eccetera tutto quello necessario oppure form anzi scusate come si chiamano input controlli di input che sono specifici per certi tipi di contenuto abbiamo detto il numero number piuttosto che l'email deve fare una validazione che ci sia una chioccia o un punto fondamentalmente la password che non vi fa comparire il valore e così via checkbox esiste anche la checkbox esiste anche il button ok ah già ne esistono tanti altri ancora non abbiamo ancora finito l'html5 come vedete ne ha introdotti tanti per esempio range no questa barretta giusto per dire alcuni sono vecchi no ci sono i radio button la checkbox sono presenti nelle prime versioni altri invece sono appunto molto più recenti ecco alcuni attributi comuni del controllo del tag input quindi checked quello che abbiamo visto prima disabled se volete farne comparire uno ma che non sia modificabile all'utente ad esempio ho finito di compilare il form voglio fargli vedere riepilogo con lo stesso stile faccio disabled read only si vede sembra editabile ma ci cliccate sopra non si può modificare required ok questa è poi per la validazione eccetera vediamo questi sono tutti non così fondamentali poi ci sono attributi che dipendono dal controllo di input per esempio se io metto che so number posso dirgli qual è il minimo e il massimo mi verrà fuori una cosa una freccina che mi consente di aumentare o diminuire fino a un minimo fino a un massimo se ho messo minimo o massimo mi raccomando solo perché abbiamo già fatto un corso un anno non è che l'input type number va usato per qualsiasi cosa sia un number cioè anche il numero della carta di credito faccio un esempio che è capitato in un tema d'esame vecchio è un numero ma non è un numero di quelli che modifico col più e col meno cioè quello è fondamentalmente del testo è vero che sono solo numeri ma il testo come un numero di telefono non penso che vi sognereste di trattare un numero di telefono come un numero se invece è un qualcosa che ha senso come numero quante pizze ordino vabbè allora ci può stare avere il controllo di tipo numero quindi sempre usare la testa quando si fanno queste interfacce ok posso mettere anche dei pattern nel test quindi cercare di fare in modo che l'utente scriva solo certe cose non so tipo fino a 8 caratteri c'è anche il minemax che è più facile però solo caratteri e solo 8 eccetera ecco label vale la pena di dire due parole perché è una cosa un po' particolare label vi consente di collegare praticamente del testo ad un controllo come per esempio una checkbox un qualcosa magari piccolino come in questo caso con l'attributo for id sul controllo così che non dovete necessariamente interagire solo col controllo quindi in questo caso la checkbox ma potete interagire anche col resto che sono la label se cliccate sulla label si automaticamente seleziona la checkbox questo può essere molto utile quando i controlli sono piccoli le checkbox i radio button eccetera in particolare nel momento in cui usate dei sistemi diciamo con cui interagite in maniera poco precisa il dito sul tablet sul telefonino eccetera ok texteria un'area di testo un po' più ampia quando scrivete un email nell'interfaccia web non volete scrivere la riga per riga ovviamente ma volete qualcosa magari anche modificabile in dimensioni e come vedete già intravedete qui il problema è che questi controlli default hanno un aspetto diverso a seconda del browser quindi i form sono nati tanto tempo fa diciamo sono nati insieme praticamente all'html o quasi e e quindi sono evoluti diciamo insieme all'html ognuno ha portato avanti la sua maniera di di visualizzare i vari controlli del form e quindi per rendere uniforme l'interfaccia l'indicazione è sempre la stessa usiamo una libreria che ci fornisca qualcosa in cui chi l'ha sviluppata si è già preoccupato di renderla abbastanza uniforme il più possibile uniforme tra i vari browser domanda il for permette anche di attivare l'event handler sì sì certamente certamente perché se no non servirebbe a niente è come se avessi fatto il click sulla checkbox ok vabbè poi andiamo avanti in queste cose quando uno ne ha bisogno poi cerca la diciamo la funzionalità specifica però siete abituati a tutte le interfacce grafiche usare applicazioni e così via select vi fa il drop down quindi la cosa in cui potete aprire vedere la lista più o meno complicata eccetera non c'è niente di così difficile da capire no? concettualmente un gruppo selezione eccetera eccetera ecco bottone tag button esistono tre tipi fondamentali tre tipi fondamentali di bottoni in html il bottone tipo submit il bottone reset e il bottone generico button type submit no? meglio quello che scrivete sopra il bottone il bottone submit inform prende tutti i valori di tutti i controlli li mette insieme in un testo e li manda al server ok? quindi questo è il comportamento di default il bottone di reset riporta tutti i controlli al valore iniziale quindi quello che voi avete specificato come valore iniziale può essere vuoto ma può essere anche già del testo se già precompilato qualcosa e il terzo tipo button non fa assolutamente niente il terzo tipo button è lì solamente per essere agganciato dal javascript quindi con handler click o non so altri handler appropriati per il bottone per poter eseguire del codice al verificarsi la pressione del bottone ok? quindi tre tipi di bottoni in realtà visto che programmiamo noi tutto fondamentalmente noi potremmo usare sempre il tipo button perché? perché tanto il codice lo scriviamo noi il submit anzi ci dà fastidio perché vogliamo disabilitare questo comportamento perché prima lo submit il browser va a caricare un nuovo url che vuol dire che ci resetta l'applicazione perché carica nuova roba nuovo html nuovo codice eccetera il reset vabbè può darsi che ci torni utile ma è una cosa che possiamo anche programmare se ne abbiamo bisogno perché usare button piuttosto che input type uguale button che esiste anche beh diciamo che è un pochino più flessibile potete metterci diciamo le immagini eccetera mentre nel input type button non riuscite a metterci tanto altro che non sia testo ok quindi attenzione lo stile varia possiamo provare un po' a lavorare col css ma perché perché dobbiamo farlo noi e tra l'altro questi controlli essendo vecchi non supportano tutte le proprietà css non è detto che riusciamo a farlo sempre bene e quindi la soluzione è sempre quello che dicevamo cerchiamo di usare libreria frameworks il più possibile avete visto bootstrap custom control e quindi potete prendere le checkbox da bootstrap potete prendere tutti i vari elementi dei form che sono già stilizzati in maniera abbastanza ben fatta e usate quelli e risolvete tutti i problemi quindi detto proprio in maniera veloce ecco parliamo di eventi del form visto che abbiamo parlato di eventi perché ogni form scatena degli eventi particolari perché appunto è un elemento abbastanza dinamico nella pagina e quindi sulla base di quello che fa l'utente ci sono tutta una serie di eventi che ci possono tornare utili eventi tipo input il valore di un elemento è stato cambiato cioè io scrivo qualcosa in una casella e e quindi mi viene scatenato questo evento cioè premo anche solo un tasto quindi un singolo carattere change qualcosa è stato cambiato per il test ok solo quando perde il focus quindi scrivo del testo poi clicco su un'altra cosa mi viene scatenato l'evento change sugli altri invece è più immediato che su una checkbox l'ho cliccata viene scatenato l'evento change cut copy paste così sapete anche come si fa ad agganciare questi che so a prevenire che l'utente possa fare incolla beh aggancio l'evento paste e vado a evitare che venga modificato il contenuto che so della casella di test e così via se è modificato lo cancello non lo so ecco focus blur ecco invalide è interessante perché abbiamo detto che ci sono dei controlli che per loro natura possono contenere del contenuto invalido numero abbiamo messo minimo massimo se l'utente ha scritto un valore al di fuori di minimo massimo che succede? beh c'è questo evento invalide che viene lanciato che io posso intercettare in javascript questa è una novità dell'html5 per i form che mi consente di agganciare del codice e che so far non so andare a verificare qual è l'elemento invalido e scrivere un messaggio attenzione non hai compilato bene il campo X quando vi compaiono questi messaggi dinamicamente magari hanno usato questo questo evento nominiamo tutti questi eventi e che sono eventi presenti nell'ambiente del browser ma sono poi gli stessi che sono anche a disposizione nei vari framework e poi gli eventi sono quelli saranno magari wrappati quindi saranno da gestire leggermente diversamente ma il nome degli eventi e quando si verificano è sempre questo esempio form action input type test input type submit risultato qui a destra casella di testo bottone submit ok quindi voglio andare a lavorare col javascript su su questo form cosa faccio beh prima di tutto qualcuno me ne deve agganciare diciamo il nodo quindi l'elemento che mi interessa quindi qui vedete un'ennesima maniera di fare la richiesta quindi avrei potuto mettere un id e scrive document get element id faccio query selector visto che oramai i selettori CSS sono molto potenti questo è un selettore che dice di andare a prendere un certo tag html che ha un certo valore come tipo come attributo tipo uguale text che non è il massimo potrebbe essere ce n'è più di uno quindi questo è giusto per fare un esempio ok una volta che l'ho agganciato quindi l'ho preso riferimento posso farci tutto quello che voglio add event listener input ok event current interval is e quindi faccio un console log giusto per debug tanto per provare add event listener change console log ecco questo esempio potete potete provarlo e così vedete che cosa succede adesso visto che è un po' tardi eviterei di farlo vorrei almeno finire questo set di slide vedete cosa succede vedete la differenza tra input e change quindi nel momento in cui scrivete un nuovo carattere viene sul console log il nuovo valore notate che lo recuperiamo semplicemente con input field punto value punto value in generale va a recuperare il valore e i controlli change invece viene stampato solamente quando perde il focus quindi quando cliccate ops non devo cliccare sulle slide se non va avanti quando cliccate al di fuori del campo ok quindi semplicissimo da provare prendete l'html di prima ci appendete questo sotto un piccolo form e mettete queste tre righe di javascript nel js e lo provate immediatamente ok submit event esiste anche l'evento submit quindi quando premiamo il bottone submit viene scatenato l'event submit una cosa da fare nelle single page application è questa prevent default prima cosa da fare non voglio assolutamente caricare una nuova pagina resto sempre sulla pagina stessa ok quindi questo è diciamo per evitare che il browser carichi una nuova pagina oppure no beh in realtà non posso dire non metto il bottone submit perché il submit può avvenire per esempio anche perché uno preme invio da qualche parte quindi è bene agganciare l'evento submit e fare prevent default che ferma la gestione di default del browser cioè l'accaricamento della nuova pagina ultimo argomento validation quindi come si fa a validare i dati inseriti in un form abbiamo visto che ci sono tanti controlli html5 che ci consentono di farlo e quindi lo fanno per conto loro nel senso che nel momento in cui appunto metto un numero al di fuori tra quel min e max richiesto il controllo mi evidenza questo problema oppure posso farlo semplicemente in javascript con codice mio cioè io nel momento in cui ho a disposizione l'evento input l'evento change tutte le volte che cambia qualcosa vado a verificare se quanto scritto è valido oppure no occhio che input ogni cosa che scrivo nel senso che possono crearsi situazioni un po' particolari se io ho bisogno di scrivere due cifre voglio un numero di due cifre e lo sto scrivendo nella casella di testa se voi scrivete nel codice se è solo una cifra scrive errore e blocca tutto non va bene perché io per scrivere due cifre devo premere due tasti e quindi genererò due eventi input bisogna sempre provarlo bene il codice se invece uso l'evento change prima scrivo poi clicco da un'altra parte e il change viene lanciato e ci sono due due numeri e allora posso fare il controllo ok quindi attenzione bisogna solo fare attenzione un po' di prove ma vedrete che è molto intuitivo ok la validazione del form quindi il contenuto può essere fatta sia client sia server qual è l'utilità di fare la client l'utilità è quella che interagite localmente molto rapida e magari evitate errori all'utente che diciamo non è stato attento non ha non ha fatto non ha capito cosa bisognava scrivere nel form quindi potete dinamicamente scrivere un messaggio dare warning di tipo visivo e cambiare lo stile di qualcosa eccetera per rendere evidente che cosa c'è che non va attenzione che fare questo non vuol assolutamente dire essere certi che al server arrivino sempre e solo dati perfettamente validi perché questo è quello che facciamo è una cortesia rispetto all'utente normale ma il server è un server che riceve dati da chiunque utente normale utenti che magari ha aperto l'inspector come facciamo noi ha paccioccato ha fatto delle cose quindi ha bypassato tutti i vostri controlli javascript oppure l'utente malizioso che in qualche maniera ha la possibilità di collegarsi al server e invia dei dati non validi che magari mettono in crisi il server quindi va bene va bene va bene fare un po' di validazione perché migliora l'esperienza utente ma sul lato server mai fidarsi della validazione client side perché chiunque può mandarci qualsiasi cosa basta modificare diciamo il comportamento della dell'applicazione che essendo tutta che gira sul client può essere tranquillamente modificata ok quindi esempi di validazione già presente all'interno dei controlli dei form in html5 ne abbiamo già intervisti email controlla che sia un email valida non vuol dire che va sul server a verificare che esista ma che la sintassi sia ragionevole un email senza simbolino et non è un email url quindi che ci sia la specificatore dell'url http eccetera eccetera il numero che sia il numero tutto quello che volete se è required che ci sia un valore no oppure appunto dobbiamo implementarci tutto noi in javascript usando un evento ragionevole come per esempio il change tutte le volte che c'è il change vuol dire che qualcuno ha cambiato qualcosa di informe andiamo a verificare se è corretto ok va bene ci sono tutti questi attributi che ovviamente dipendono dai dei tipi di elementi se sono numeri min length max length per i testi eccetera eccetera ecco quando un elemento è valido si applica la classe la pseudo classe CSS valid e viceversa si applica l'invalid e questo significa anche che tramite il CSS possiamo cambiare l'aspetto quindi input invalido input valid facciamo lo rosso piuttosto che nero voi scrivete qualcosa non è un'email nel momento in cui arriva ad essere un'email questo diventa cambio aspetto tutto questo è fatto automaticamente dall'html5 tramite CSS con le pseudo classi senza che dobbiate scrivere una singola riga di codice javascript quindi sapere che esiste può essere utile ovviamente questi sono comportamenti di default come tutto quello che dicevamo prima dei controlli del browser controlli del browser sono hanno lo stile che hanno se usate quelli rifatti o aggiustati da una libreria ovviamente avete qualcosa di più uniforme e questo vale anche per la questione della validazione se voi la fate voi in javascript potete fare cose che magari non sono previste nei controlli di default quindi dovete appunto usare di event listener oppure potete andare anche a interrogare un'api di validazione che esiste apposta nell'html5 su ogni elemento potete andare a vedere per esempio se è valido quindi è un oggetto che vi dice se è valido o no quindi col codice javascript getelementbyid oppure agganciato in qualche altra maniera controllate validity se va tutto bene sarà a posto altrimenti vi dice qual è il problema e voi potete anche stamparlo all'utente e in bootstrap il valido e invalido è già implementato dunque questa è una domanda che dipende un po' dal controllo penso bootstrap dunque noi quando poi useremo il distinguimento tra il bootstrap normale e il bootstrap che useremo col framework bootstrap react nel bootstrap normale penso che in qualche maniera sia stato implementato bisogna andare a verificare ma credo che ci sia una qualche maniera di dirgli di usare lo stile diverso valido e invalido nel bootstrap react invece che è diciamo il bootstrap quasi uguale a quello normale ma leggermente adattato per essere usato col framework che useremo react avete poi la possibilità di collegare facilmente ai controlli del form forniti da bootstrap del codice in react tramite i cosiddetti ux con i quali potete reagire a quello che succede all'interno del controllo per esempio la casella di testo e così via quindi non so dare una risposta esatta in questo momento a questa domanda perché dipende un po' dal controllo e da quello che ci mette a disposizione ogni singola versione di bootstrap bisogna un po' andare a vedere però non mi stupirei se appunto bootstrap già in qualche maniera ci consentisse di cambiare lo stile a seconda del fatto che ci sia qualcosa di valido o no all'interno del controllo è chiaro che nel controllo dobbiamo usare un controllo di quelli che può essere validato se è un generico text non c'è niente da validare se noi mettiamo tipo email allora lì c'è già un qualche cosa che può essere validato automaticamente quindi spero di aver risposto a questa domanda anche se in realtà la risposta è appunto un po' parziale ok ricordatevi questi metodi appunto perché può essere utile anche nel framework vedremo che per esempio in react quando facciamo un form un form html5 eccetera può essere utile poter fare accesso al metodo per esempio check validity del form html5 perché questo già ci dice se va tutto bene oppure no e ci risparmia tanto lavoro tanto codici da scrivere in javascript e questo è il vantaggio ok direi che quindi qui abbiamo finito quindi in realtà non abbiamo visto nessun esempio dei form cioè al massimo potevamo vedere questo esempio però intanto se avete dei dubbi o domande finisco a fare un copia e incolla veloce perché questo non l'avevo preparato possiamo provarlo un attimo qui dentro quindi format document ovviamente dobbiamo modificare html vediamoci questo questo è il div della della riga facciamo proprio una cosa grezza scusatemi ma anche perché il tempo stringe quindi facciamo proprio solo copia e incolla del form lo stile potrebbe essere tutto migliorato però quindi vediamo vediamo il nostro form ok la console vedete cosa succede tutte le volte che premo un carattere a questo punto premo faccio un click da un'altra parte the value has changed since last time ok quindi evento input evento change torno qui sopra vado fuori non capita niente non è cambiato cancello un carattere torno fuori evento change ok quindi ragionevolmente buono è facile da provare avete visto abbiamo fatto semplicemente copia e incolla di quello che c'era sulle slide ok vista l'ora direi che vi lascio andare se non avete domande e non abbiamo visto mi spiace insieme la parte del this farò appunto un piccolo video che vi metto a disposizione a brevissimo non serve per il laboratorio quindi non è fondamentale per il laboratorio però dobbiamo conoscere questo aspetto qui non è che c'è niente di così particolare da dire quindi il this fondamentalmente c'è da capire che dipende da dove chiamiamo la funzione il valore che assume il this in parte l'abbiamo già visto ecco il new il new fa in modo che il this si riferisca all'oggetto ecco la cosa che vi invito a ricordare che la più forse la più importante da ricordare è che con la row function il this funziona diversamente del motivo per cui ogni tanto se in laboratorio era successo a qualcuno che con l'accesso al database e volevate vedere this last id eccetera non funzionava con la row function perché perché la row function cambia il modo con cui funziona il this e quindi bisogna definire function ed è probabilmente l'unico posto che incontriamo dove non si può usare la row function al posto di scrivere function perché appunto cambia purtroppo il modo in cui funziona il this comunque faccio questo piccolo video che vi metto a disposizione credo già oggi pomeriggio che appunto sarà relativamente breve e dice quattro cose su come funziona il this in javascript ok se non ci sono dubbi o domande se non sbaglio la row function non cambia nel contesto si sostanzialmente il this prende diventa il this che si avrebbe al di fuori dello scope della row function quindi no l'enclosing scope bisogna se vogliamo che si comporti come gli altri dobbiamo usare cioè qui avremmo dovuto scrivere function aperta chiusa tonda aperta graffa eccetera semplicemente è una questione di sintassi che noi abbiamo sempre detto è equivalente ma è quasi equivalente perché c'è questa problematica del this che però è estremamente comoda negli event handlers e nelle callback ed è il motivo per cui l'hanno lasciata così gli event handlers che abbiamo visto stamattina abbiamo fatto tutti con le frecce vabbè non abbiamo usato il this ma diciamo nel momento in cui ci servisse un this diciamo funziona bene perché perché appunto ci consente di di usare quello che ci viene messo a disposizione diciamo nello scoppio esterno che può anche essere una closure ok va bene comunque se ci capiterà poi nel codice a un certo punto di vederlo da qualche parte lo evidenzieremo direi che per oggi basta così per oggi diciamo in diretta basta così purtroppo ci sono questi quarto d'ora forse che meno che dovete poi guardare registrati ma vi lascio andare per eventuali altre lezioni grazie a tutti